La realizzazione della linea 5 della metropolitana e i lavori di rifacimento del Palalido stanno sconvolgendo la zona di Piazzale Stuparic a Milano. Il parcheggio delle autovetture è divenuto selvaggio e non ci sono certezze sulla viabilità al termine dei lavori. Hanno protestato i cittadini della zona che oggi hanno incontrato alcuni consiglieri comunali in occasione del sopralluogo della Commissione Ambiente di Palazzo Marino. I residenti hanno chiesto la realizzazione di una piscina coperta e di palestre per il tempo libero e hanno fatto presente alcune gravi lacune come il parcheggio a ridosso del Lido e i rifiuti accumulati a poca distanza. Delle cose assolutamente assurde come i rifiuti a 50 metri dalla piscina Lido, come diavolo si fa a pensare che igiene e sicurezza siano salvaguardate? Poi la cosa incredibile è che quando non c'è acqua, quando la piscina non è utilizzata, tutti intorno vengono parcheggiate le auto. Si sa che le auto dai tubi di scappamento, anche da ferme, rilasciano delle cose non particolarmente buone. E sono i posti dove poi la gente d'estate cammina a piedi nudi perché è una piscina. Sono tante cose da mettere a posto. Piano piano cercheremo di farlo e di farlo col buon senso, spendendo meno soldi possibile, però i problemi vanno risolti. Una grande amministrazione comincia a risolvere i piccoli problemi.